Buonasera, le 21.15 del 2 febbraio 2018, ben trovati per questo appuntamento di questa chiusura di settimana, la prima di febbraio, il 2 febbraio la festa della Candelora, ma domani si aprono ufficialmente anche i festeggiamenti di Sant'Agata nella città di Catania, domani la serata del 3, ci sarà il solito concerto in Piazza Duomo con il grande spettacolo piro musicale del mio amico Alfredo Cavalluzzo e del mio carissimo amico, fraterno amico Gino Cosentino, vedremo uno spettacolo che si rinnova ogni anno, è una novità, è uno spettacolo che inorgoglisce la città di Catania, ma se mi consentite anche tante professionalità che hanno fatto gustare a volte anche in anteprima tutto quello che avveniva proprio nella serata del 3 del propedeutico alla festività di Sant'Agata, patrona della città di Catania, sia la ditta di Vacalluzzo che la ditta di Gino Cosentino. Speriamo di ritornare a queste anticipazioni tecnologiche che tanto ci inorgoglivano, tanto ci piacevano, tanto rendevano veramente unica anche la città di Caltagirone. Andiamo ad aprire questa trasmissione, stasera è una trasmissione molto attesa per quanto mi riguarda, se non altro perché esordisce una striscia che speriamo di poter avere settimanalmente, quella dell'esclusiva, stasera con l'esclusiva. Stasera esordiremo con un personaggio, l'abbiamo già anticipato ieri sera, il primo e speriamo che sia una lunga serie di personaggi certamente che fanno la differenza. Stasera avremo in esclusiva una intervista realizzata, la prima intervista realizzata nello studio personale del Presidente della Regione con l'onorevole Nello Musumeci, che è riuscito a ritagliarci un po' del suo preziosissimo tempo, io l'ho vissuto, l'attesa, quindi ho capito che in effetti i tempi erano molto contingentati, quindi siamo dovuti essere veramente bravi nello stare nei tempi prestabiliti, anzi abbiamo sforato con un po' di disappunto della segreteria particolare, però ahimè c'eravamo e quindi ce la siamo giocati tutta. Questa è un'esclusiva, parliamo col Presidente della Regione di tanti argomenti che attanagliano la nostra Sicilia e perché no abbiamo anche toccato in questa lunga conversazione qualcosa che attiene la nostra realtà, i nostri uomini, la nostra politica, il nostro essere. Quindi con grande piacere stasera l'apertura di stasera Coni è affidata a questa nuova rubrica, l'esclusiva di stasera Coni, sarà un appuntamento settimanale, stasera non potevamo avere esordio migliore con il Presidente Nello Musumeci. Siamo un pizzico orgogliosi di questo e consentitecelo, siamo gradevolmente appagati perché viene sancito che questa emittente e la sua lunga storia di circa 39 anni di attività viene anche premiata con queste presenze che indubbiamente ci danno orgoglio e onorano anche lo sforzo di tanti che hanno lavorato e che lavorano attorno a questo progetto dell'informazione. Il Presidente Musumeci tra l'altro nei momenti topici di TVR Xeno è stato sempre presente, lo ricordo presente quando celebramo i 30 anni e i 35 anni, quindi voglio dire è un amico assolutamente di TVR Xeno. Poi seguiremo, cercheremo di conoscere, stiamo conoscendo un po' i vari candidati, stasera sarà ospite l'onorevole Ancelo Attaguile, candidato della Lega per il centrodestra nell'uninominale e nel proporzionale, diciamo nella provincia, nel collegio di Acireale Caltagirone paterno e nel proporzionale per il Senato della Sicilia orientale. Quindi presenteremo un'anteprima, una bellissima iniziativa che sarà messa in atto da mercoledì, mercoledì 14 febbraio, interessata un po' tutta la chiesa di Caltagirone, la Caritas in primis, quindi il Presidente e Sua Eccellenza Ilvesco, il Direttore Don Luciano Di Silvestro, ma avremo una presenza nutrita per parlare di questo emporio della solidarietà. Curiosa la definizione, però il significato è facile da comprendere, tra l'altro il 14 mercoledì febbraio non è soltanto la festa di San Valentino, ma è il mercoledì delle ceneri, quindi è l'apertura di uno dei periodi, il periodo più importante della Chiesa Cattolica che è quello della Quaresima che ci porta alla Santa Pasqua. Ecco, state con noi, brevissima pausa pubblicitaria e partiamo subito con l'esclusiva di Stasera Con, con questa importante intervista. A dopo.